Consiglio comunale ad Avezzano. Diversi importanti argomenti all'ordine del giorno. Decisioni importanti per i processi di ricostruzione sono state prese a Roma con il ministro Bussetti. Emicrania, inizio di una nuova era. Convegno con otti esperti nella sala ex-Sarsa. Contrasta fenomeni di criminalità, confcomercio e discorso della problematica con il prefetto Linardi. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Domani, 18 aprile, alle ore 16, si riunirà il Consiglio comunale di Avezzano. Lo ha reso noto il Presidente del Consiglio, Iride Cosimati, specificando che all'ordine del giorno sono stati inseriti 12 argomenti e ne segnaliamo alcuni. Ratifica deliberazione di giunta comunale per la variazione d'urgenza al bilancio di previsione e al programma delle opere pubbliche 2019-2021. Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2018. Compenso collegio da revisore dei conti. Comunicazione al Consiglio comunale della deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, relativa all'esame dei dati riportati sul questionario del revisore dei conti al rendiconto per l'esercizio finanziario 2015-2016. Approvazione del regolamento recante disciplina per accertamento e riscossione dei tributi locali, lotta all'evasione tributaria, strumenti deflattivi del contenzioso. E ancora, realizzazione da parte della Fondazione della Casa dell'Isparmio della provincia dell'Aquila dell'intervento di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e consolidamento dell'immobile denominato Villino Cimarosa di proprietà del Comune di Avezzano. Concessione gratuita orti urbani. Come avete sentito tra gli argomenti in discussione c'è il compenso ai revisori dei conti e al riguardo c'è giunta una seguente nota. Nessun bonus per il revisore dei conti del Comune di Avezzano, ma un dovuto adeguamento dei compensi in applicazione del decreto ministeriale del 21 dicembre 2018. E' quanto chiarisce in una nota il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, in merito ad alcune recenti polemiche. Mi dispiace, scrive, che il presidente Rappino e i membri del collegio dei revisori ai contabili, professionisti stimati, sono finiti nel tritacarne di una polemica politica davvero di basso profilo, particolarmente ossia da alimentarla è un dirigente pubblico ed ex sindaco, che ben dovrebbe conoscere le norme e l'alta valenza del ruolo ricoperto dal collegio. Tale adeguamento va chiarito a del 23% ed è riferito agli indici SAT per tutti i comuni italiani e del 30% sulla base della demografia cittadina. Le tariffe precedenti erano ferme addirittura al 2005 ed apparivano in tutta evidenza non calibrate le prestazioni professionali cui il collegio ha chiamato. Il decreto ministeriale non ha fatto altro che applicare il principio comunitario dell'equocompenso che stabilisce adeguati compensi a chi svolge compiti che prevedono elevati livelli di competenza e conoscenza. La decorrenza dal 1 gennaio del 2019, tra l'altro, è stata fissata dal decreto ad evitare eventuali contenziosi e non certo per favoritismi di sorta. Passi importanti sono stati compiuti per portare avanti i processi di ricostruzione in Abruzzo dopo il terremoto del 2016. Nel corso degli incontri di oggi che il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha avuto a Roma sono arrivate risposte concrete per implementare le attività di ricostruzione, in particolar modo per quanto riguarda l'edilizia scolastica e il personale negli uffici dedicati alla ricostruzione. Nel corso dell'incontro che si è svolto al Ministero dell'Istruzione, dove Marsilio ha incontrato il ministro Marco Bussetti, è stata data notizia di una distribuzione aggiuntiva per quanto riguarda gli interventi sull'edilizia scolastica. È stato infatti previsto un extra riparto per le regioni colpite dal sesma 2016. Il piano triennale di edilizia scolastica regionale, in vigore per gli interventi di ricostruzione e messa a norma degli edifici scolastici, prevede investimenti necessari per 322 milioni di euro. La copertura dei finanziamenti ha ad oggi riguardato solo la prima annualità, con finanziamenti pari a 47 milioni di euro. La somma aggiuntiva promessa dal ministro, oltre alla copertura della seconda e della terza annualità, andrebbe a completare così il fabbisogno finanziario per gli interventi di edilizia scolastica. Al piano triennale vanno aggiunti i fabbisogni per gli edifici danneggiati dal sisma. Sono 126 quelli inagibili, 26 sono stati finanziati. Per due lavori sono terminati e manca solo il collaudo finale. Per gli altri, invece, sono in corso le procedure di progettazione di appalto. Alcuni di questi sono già finanziati dalle risorse derivanti dal sisma 2009. Rimangono 76 edifici, 8 dei quali sono stati inseriti nell'asse 9 del FERS a seguito dell'assegnazione delle risorse aggiunte della Commissione Europea per il sisma del 2016. Il fabbisogno complessivo riguarda ora 68 edifici. Il commissario straordinario alla ricostruzione, Piero Farabollini, ha assunto l'impegno per un ulteriore piano stralcio sulla base dei fabbisogni che verranno segnalati dalla Regione Abruzzo al fine di garantire gli interventi. Obiettivo, quindi, nel corso della legislatura, è quello di definire l'intero adeguamento sismico dell'edilizia scolastica. Nel corso del secondo incontro di oggi, il Presidente Mersilio è riuscito ad ottenere i fondi per incrementare, nell'immediato, la dotazione organica dell'ufficio speciale della ricostruzione in attesa dei successivi passaggi. Lo stesso Presidente Mersilio ha sottolineato che, al momento, è impossibile poter rivedere la distribuzione del personale assegnato, ormai giunto la terza annualità, senza danneggiare le altre regioni. Dopo le parole del Ministro Bussetti, che ha detto di dover restituire agli studenti abruzzesi scuole vere e sicure, il Presidente Mersilio si è detto soddisfatto delle riunioni di oggi. Finalmente si parla di ricostruzione con i fatti, i numeri, gli impegni economici e l'assunzione del personale necessario per poter smaltire le pratiche. 12 persone su 100 in Italia e nel mondo soffrono di emicrania, con ricadute gravi sulla quotidianità. Oltre all'essenza e lavoro, tante difficoltà nella vita di relazione e sofferenza. Una patologia seria e spesso sottovalutata, che colpisce prevalentemente tra i 30 e i 50 anni e che nella forma cronica si manifesta con almeno 15 attacchi al mese, fino ad avere mal di testa tutti i giorni. Dei nuovi farmaci che hanno aperto orizzonti innovativi nella cura della malattia, si è parlato durante il congresso interregionale SIX, che sta per Società Italiana Studio Cefalei, svoltosi per la prima volta ad Avezzano giovedì e venerdì scorsi nella sala convegni dell'Arsa. I lavori del titolo Demicrania, l'inizio di una nuova era, organizzati dalla professoressa Simona Sacco, direttore del reparto di neurologia, e Stroke Unit dell'ospedale di Avezzano, hanno partecipato firme importanti della disciplina italiana, tra cui la professoressa Paola Sarchielli dell'Università di Perugia e il presidente nazionale della SIX, professor Pierangelo Geppetti, del centro cefalee dell'Università di Firenze. Al congresso interregionale Bruzzo Marchi Umbria sono intervenuti relatori di diverse regioni italiane che hanno analizzato i temi al centro del focus, alla presenza di circa 100 specialisti. L'ospedale di Avezzano a livello regionale e nazionale è tra i primi a praticare le nuove terapie legate a nuovi farmaci. Le novità terapeutiche in particolare vengono somministrate da alcuni mesi nell'ambulatorio del presidio marsicano diretto dall'Assacco, aperto nel gennaio scorso. E c'è stata una forte risposta nell'utenza marsicana e non, tanto che le visite effettuate negli ultimi tre mesi sono state oltre 300. I nuovi farmaci che siamo tra i primi centri in Italia a somministrare, e dichiara l'Assacco, non sono di uso comune, ma agiscano sul meccanismo fisiopatogenico dei micrani e risultano più efficaci e ben tolleranti. Va però specificato, aggiunge l'Assacco, che l'uso di questi nuovi prodotti è appropriato solo per casi gravi, oppure quando il paziente non risponde al trattamento tradizionale. Il congresso regionale conclude l'Assacco, è stato un momento importante di confronto su questo argomento, con specialisti di fama nazionale. L'emicrania, soprattutto nelle manifestazioni più acute, può essere causa invalidante e in grado di condizionare pesantemente la vita quotidiana. Colpisce tutte le categorie sociali, ne soffrono molto di più le donne, due su tre, per cause problemamente riconducibili a fattori genetici e ormonali. Domenica scorsa, seguito di due gravi episodi criminosi, che si sono registrati nel giro di 24 ore, a danno della gioielleria Ranalletta di Avezzano e dell'orificeria Cavallo dell'Aquila, ConfCommercio si era immediatamente attivata per richiedere al prefetto dell'Aquila un incontro urgente, teso a mettere in campo ogni possibile iniziativa di contrasto a questi deprecabili episodi. Prontamente il prefetto Linardi si è attivato per convocare una riunione presso la prefettura di L'Aquila nel primo pomeriggio di oggi. ConfCommercio registra positivamente questa immediata risposta e per tale ragione esprime particolare gratitudine al prefetto. All'incontro hanno preso parte, oltre ai rappresentanti ConfCommercio ed esponenti di altre categorie, il prefetto Giuseppe Linardi, il questore Orazio Danna, il comandante provinciale dei Carabinieri di L'Aquila, colonnello Nazareno Sant'Antonio, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di L'Aquila, Sergio Anoia. L'incontro di oggi è stato particolarmente produttivo e l'alta professionalità di tutti i vertici delle forze dell'ordine ci hanno confortato e rassicurato sul massimo livello di guardia che le medesime hanno immediatamente posto in campo, hanno dichiarato il Presidente e il Direttore regionale di ConfCommercio Abruzzo, Roberto Donatelli e Celso Cioni. Abbiamo appreso che ci sono interessanti sviluppi sul piano delle serrate indagini in corso, sui recenti reati che a taluni degli investigatori ha fatto esprimere un cauto ma fiducioso orientamento. Abbiamo sollecitato anche per il capologo l'attivazione della telesurveglianza e ci si è determinati per porre in campo una serie di attività formative ed informative destinate ai piccoli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi. Possiamo esprimere piena soddisfazione per il percorso avviato da questa operativa riunione. Che cos'è la cultura e che serve la cultura? Il tema della conferenza è organizzata dall'Associazione Avezzano Europa per il giorno 26 aprile alle ore 17.30 nella sala riunioni del Restaurant Café Uma di Avezzano. Il relatore sarà l'antropologo Ernesto Di Renzo, docente dell'Università di Roma Tor Vergata, esperto di storie delle tradizioni popolari, religiose ed enogastronomiche, non anche divulgatore della cultura alimentare in Italia e all'estero. Avezzano Europa di cui il presidente Brizio Montinaro propone ogni mese appuntamenti culturali, occasioni di incontro di grande interesse. Per ognuno di noi è difficile vivere senza interrogarsi sulla qualità della vita, degli aspetti introspettivi di ogni persona. Ricercare la serenità, il benessere e la felicità è possibile. Questa sarà la prospettiva filosofica e di vita che verrà proposta ai presenti da Ernesto Di Renzo nella conferenza, ricordiamo, dalle 20 aprile prossimo al Restaurant Café Uma Mi alle ore 17.30. L'ingresso è libero. Rivoluzione digitale per i contribuenti lucchiesi. Il Comune di Locodemersi, infatti, ha attivato il cassetto tributario, è un innovativo servizio online traverso il quale ogni cittadino potrà verificare in qualsiasi momento la propria posizione tributaria nei confronti dell'ente, consultare documenti e reperire tutte le informazioni sui tributi e sui di adempimenti da assolvere, ma anche apportare eventuali modifiche ai dati, qualora non corrispondenti, e ottenere ratizzazioni ed effettuare i pagamenti degli AF24 direttamente online, senza costi di commissione. I pagamenti potranno essere effettuati con carta di credito, bonifico o delle AF24 tramite home banking. Già attualmente è disponibile la documentazione relativa al pagamento della Tari 2019 per la quale è possibile effettuare il pagamento online. La piattaforma rappresenta uno strumento telematico gratuito in grado di eliminare i tempi di attesa per ottenere informazioni e per effettuare i pagamenti, risparmiando anche i costi delle commissioni, ha spiegato il sindaco Maria Rivera De Rosa. Questa innovazione era uno dei punti del nostro programma e si traduce in un risparmio di tempo e denaro, non anche con la semplificazione del rapporto con l'ufficio tributi, ovviamente sempre a disposizione dei cittadini laddove necessario. Per usufruire del servizio ai cittadini lucchesi potranno accedere nell'apposita sezione denominata che è sito tributario presente sul sito istituzionale del Comune di Lucco de Marsi all'indirizzo comune.luccodemarsi.acu.it e effettuare la registrazione per ottenere le credenziali necessarie all'utilizzo dello stesso in assoluta privacy e sicurezza. Alle scuole primarie dei quattro istituti scolastici della città di Avezzano è stato inviato il regolamento del context per trovare un nome al parco a tema giurassico che sorgerà lungo via Massadalbe prima dell'estate. Ogni scuola provvederà a segnalare un nome uno per ogni istituto entro e non oltre domenica 5 maggio lo ha comunicato il sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis che ha risonotto nel regolamento del context le attrazioni principali del parco saranno costituite da tre dinosauri elettromeccanici nello specifico con un tiranossauro rex un tricerotto poi un coccodrillo tutti riprodotti in dimensioni reali ci saranno pascivoli altalene una carrucola e tanti altri giochi tutti a tema inclusivi per trovare un nome al parco l'amministrazione comunale ha deciso di rivolgersi agli studenti delle scuole primarie dei quattro istituti scolastici di Avezzano i comuni a rappresentanza di tutti gli studenti hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione del progetto e del context quattro classi una per ogni istituto ogni scuola può sviluppare quindi un'idea che le segreterie scolastiche provvederanno ad inviare via mail all'inerizzo m-chiocciolacomune.avezzano.q.it entro e non oltre domenica 5 maggio dell'anno corrente ogni scuola sarà quindi libera di far partecipare i bambini di tutte le classi per poi scegliere il nome da segnalare al comune il nome del parco potrà essere accompagnato da un disegno sarà inserito nell'insegna all'ingresso dell'area la giuria che sceglierà il nome è quasi composta dal sindaco Gabriele De Angelis l'architetto Mario Persia che ha ridato il progetto del parco Stefano Di Fabio dirigente del settore ambiente lo staff comunicazione del comune di Avezzano sarà scelta lida più meritevole più fantasiosa più rappresentativa per il parco la giuria provvederà a decaritare la scuola vincitrice e la classifica sarà resa nota entro venerdì 10 maggio l'istituto scolastico che si aggiudicherà il concorso riceverà 300 euro di premio per gli altri tre ci sarà un premio di consolazione di 100 euro per scuola la vicenda del trasferimento del call center tua da l'Aquila a Pescara arriva nella commissione vigilanza di regione Abruzzo chiederlo è il consigliere del movimento 5 stelle Giorgio Fedeli che afferma dover affrontare l'ipotesi di ulteriori scippi perpetrati e danni di un territorio ferito per di più a margine delle commemorazioni del sisma 2009 nel corso del consiglio di martedì è qualcosa che mi rende veramente sdegnato incredulo non riesco a capire come sia solo possibile immaginare scelte così lesive per il lavoro nelle aree interne per fare piena luce su questa vicenda prima di trarre tutte le conclusioni del caso chiederò che l'argomento venga trattato nella prima seduta utile della commissione vigilanza di regione Abruzzo chiamato in causa sull'argomento il presidente della commissione vigilanza Pietro Smargiassi ha espresso massima disponibilità il 9 maggio in previsione di riunire la commissione che presiedo inserirò con piacere all'ordine del giorno la trattazione di questo argomento affinché i posti dei lavoratori aquilani siano tutelati e Marsilio e Fedele e Margiassi si sono trovati infine d'accordo nel richiedere al presidente Marsilio di fare tutto quanto in suo potere per scongiurare l'ipotesi di trasferimento paventata dalle sigle sindacali nuovo governo regionale fermano ha subito l'occasione di dimostrare quanto tiene alle aree interne del Abruzzo Marsilio blocchi l'iter interpreso da tua fino a quando non si sarà fatta piena chiarezza sulla vicenda da oggi i fondi per la nuova sede dell'Arta sono disponibili e fruibili si tratta di 3 milioni 721 mila euro con i quali verrà data concretizzazione alla convenzione stipulata tra Arta e Regione per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel distretto provinciale Arta dell'Aquila renderlo noto è l'assessore regionale al bilancio patrimonio Guido Quintino Liris nell'ambito del programma di ricostruzione post-sisma 2009 linea di intervento 4.1 sedi istituzionali infatti il Cipe ha finanziato con 3 milioni 721 mila euro l'intervento relativo al recupero della sede Arta che individua la Regione Abruzzo quale amministrazione responsabile destinataria dei trasferimenti mentre l'Arta è individuata quale stazione appaltante e a tal proposito l'assessore Liris nella giunta di lunedì scorso ha predisposto una variazione di bilancio a fine di accertare le somme stanziate con la predetta deliberazione Cipe e di trasferire le medesime somme in favore della stessa agenzia regionale per la tutela dell'ambiente infine servizio patrimonio inoltrato alla struttura tecnica di missione una nota con la quale è stato richiesto il trasferimento della prima tranche del 20% delle risorse assegnate dopo tante vicissitudini che hanno visto l'arta in l'interlocutore affidabile e disponibile all'interno del travadiato percorso che ha portato alla sottoscrizione del protocollo di intesa con Comune dell'Aquila Asla Regione Università per la realizzazione del master plan di riqualificazione dell'area dell'ex San Salvatore finalmente i fondi per la nuova sede sono a disposizione esprimo viva soddisfazione e ringrazio per la paziente per lo spirito di sacrificio indipendenti che anche in essenza di certezze hanno continuato ad operare con competenza e professionalità Nel bilancio 2019 della provincia dell'Aquila sono state assegnate ulteriori risorse pari ad 1,4 milioni di euro per l'adeguamento della sede del licee del convitto Cotugno ubicata all'Aquila in via Da Vinci questo ulteriore stanziamento si è reso necessario per l'adeguamento dei corpi A, C, E mentre per i corpi F, G, E di sono già in corso lavori avviati a settembre dello scorso anno per un totale di risorse pari a 1,3 milione di euro Lavori di ulteriore miglioramento afferma il consigliere provinciale Vincenzo Calvise delegato all'edilizia scolastica proseguiranno anche nel corso dell'anno 2020 per cui certamente anche per il prossimo anno scolastico 2019 e 2020 si farà ancora necessariamente ricorso alla soluzione temporanea di mus messi a disposizione dal comune dell'Aquila prevediamo inoltre anche un intervento di alleguamento degli impianti elettrici e dell'antincendio per ulteriore importo stimato in circa 500 mila euro da stanziare con prossima variazione di bilancio in corso di anno dunque conclude Vincenzo Calvisi con un intervento che supera nel complesso i 3 milioni di euro ridaremo la città sede del Cotonio di Pettino pienamente fruibile ed adeguata sismicamente alle norme tornare a credere e puntare in maniera forte sul turismo invertendo la rotta e quindi lavorare per costruire una strategia vincente capace di fare sull'Abruzzo una regione protagonista all'interno del panorama internazionale su questo punto l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo ha voluto incontrare ed ascoltare le associazioni di categoria e i presidenti delle camere di commercio un primo e proficuo incontro spiega Febbo dove ha voluto ascoltare le esigenze delle varie categorie e il lavoro che si sta svolgendo sulla promozione e commercializzazione del prodotto Abruzzo sul settore turismo oggi via l'urgenza di una programmazione condivisa dove tutti gli attori devono rimare nella stessa ed unica direzione dopo un'attenta analisi delle criticità presenti è emersa la necessità di lavorare sul nostro brand Abruzzo e ne ho fermato i portatori di interesse come ho già riperito ulteriori 3 milioni di euro dal Port First che si aggiungono al milione di euro già a disposizione per iniziare a lavorare ad una strategia di comunicazione sui maggiori network e televisioni italiane inoltre ho ribadito come devono essere rivisto il ruolo delle DMC diminuirle in base a quelle presenti sulle stesse aree omogenee di destinazione al fine di promuovere unitamente lo stesso prodotto e territorio con gli operatori ho espresso anche la fattibilità di allungare la stagione balneare poiché la costa per essere valorizzata e quindi iniziare la stagione il primo maggio chiuderà il 30 settembre per svolgere tutte queste azioni conclude Febbo ma bisogna lavorare per un'unica governance credibile e al fine dare un futuro certo e concreto al turismo della nostra regione questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano dove è possibile anche rivedere i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie per averci seguito anche oggi e rivederci Grazie a tutti Grazie a tutti